Musica Bentornato Goodler, bentornata Inizio una nuova decade continuando a parlare del pannello di controllo nella fattispecie una sezione particolarmente importante chiamata gestione dispositivi A cosa serve gestione dispositivi? In pratica in questa sezione vengono riportati tutti i dispositivi installati nel computer Qui hai rappresentato uno screenshot, una rappresentazione grafica della schermata che andrai a vedere Hai già preso conoscenza di come installare i driver nelle lezioni precedenti Con questa sezione puoi ampliarla, questa tua conoscenza, in questo ambito Infatti ti permetterà di installare oppure aggiornare i driver dei dispositivi installati oppure modificarne le impostazioni ed eventualmente tentare una soluzione qualora si presentassero dei problemi di funzionalità delle periferiche dei dispositivi Ti ricordo che un driver è corrispondente a una serie di bit che sono dei programmi in grado di consentire al sistema operativo di poter gestire, di poter pilotare una specifica periferica Ecco rappresentata una lista di possibilità che fornisce la sezione gestione dei dispositivi Potrai stabilire se l'hardware del computer funziona correttamente o meno Potrai cambiare le impostazioni della configurazione di quello specifico hardware Potrai identificare i driver per ogni dispositivo e ottenere informazioni preziose sugli stessi Oppure potrai modificare delle impostazioni avanzate e le proprietà dei relativi dispositivi Ancora aggiornare i driver dei dispositivi stessi oppure attivare, disattivare o disinstallare le varie periferiche Potrai ripissinare le versioni precedenti di un driver qualora fossero naturalmente presenti Potrai visualizzare i dispositivi in vario modo in base al tipo, alla connessione al computer o alle risorse utilizzate Una visualizzazione un po' personalizzata Oppure potrai visualizzare o nascondere i dispositivi, passami la ripetizione, nascosti Che potrebbero essere necessari per la risoluzione dei problemi Poi vedremo cosa sono i dispositivi nascosti In sintesi questa sezione viene esplorata per prendere visione dello stato dell'hardware installato nel computer E soprattutto qualcosa non dovesse funzionare correttamente Se una periferica non funziona, la prima cosa infatti che devi fare è consultare questa unità del pannello di controllo Per rilevare sulla periferica specifica che non funziona La presenza di un simbolo di allerta che compare sul dispositivo di norma Un segno di punteggiatura In caso di problemi sul nome della periferica troverai appunto un simbolo che attesta un non funzionamento Che potrà essere un punto esclamativo, interrogativo Indagando potresti riuscire a risolvere il problema forse con una semplice installazione o aggiornamento del driver Oppure se il problema è più grave dovrai procedere in altro modo Ma come si avvia? Naturalmente nella sezione del pannello di controllo individua il tasto gestione dispositivi Quando apri la sezione hai presentati tutti i dispositivi che sono collegati al pc Se tutto funziona correttamente naturalmente non troverai alcun segno di punteggiatura Cosa vedrai? Naturalmente come detto la lista completa dei dispositivi La visualizzazione sarà definita in base a una specifica opzione scelta da questo menu Potrai infatti visualizzare in base al tuo piacere Personalmente adotto la visualizzazione predefinita in quanto la mia abitudine ormai a questa chiave di lettura Mi rende più semplice individuare l'una o l'altra periferica Nel menu visualizza trovi anche tra le altre opzioni mostra dispositivi nascosti Che se selezionata naturalmente ti permette di rendere visibili anche quelle periferiche Che non sono collegate al pc in quel momento Vedi ad esempio una videocamera Ma in cui i driver sono installati Potrà tornare utile visionare i dispositivi nascosti Ad esempio per disinstallare i driver O risolvere eventuali problemi di conflitti tra le varie periferiche Un altro pulsante che trovi e che ha il mio modo di vedere d'esta importanza è il pulsante azioni sotto il menu Cliccandoci sopra vedrai altri due pulsanti Rileva, modifiche, hardware oppure aggiungi hardware legacy Il primo pulsante avvia una verifica totalmente automatica dei dispositivi collegati al pc Per verificare se sono state eseguite delle variazioni Se sono avvenute delle variazioni Che potrebbero non essere state notificate dal sistema operativo In caso di modifiche rilevate Naturalmente il sistema operativo avvierà la procedura di installazione automatica dei driver Se ci riesci oppure assistita tramite una tua azione Nel qual caso indirizzerai la ricerca del driver Sul supporto che ipoteticamente contiene appunto i driver Come ad esempio una penna, l'hard disk o un cd dvd La seconda opzione consente di installare un dispositivo hardware Che non supporta la tecnologia definita plug and play Ossia PMP La tecnologia plug and play prevede la possibilità di installare i driver automaticamente Senza che l'utente intervenga oppure per piccole interazioni Questo è possibile in quanto le versioni recenti di Windows Sono in grado di rilevare l'hardware collegato al computer Semplifica per così dire l'installazione rendendola attuabile anche per i poco esperti Praticamente potrebbe anche non essere necessario alcun intervento da parte tua Se Windows non è in grado di rilevare e installare naturalmente i driver Dovrà eseguire appunto la procedura di installazione tramite il pulsante hardware legacy Ciò comporta però che tale operazione deve essere eseguita da un utente Con un certo grado di cultura Oppure che tu abbia l'animo da sperimentatore Perché questo? Perché dovrai eseguire una procedura guidata Ma durante tale procedura dovrai scegliere alcune opzioni Eseguire alcune selezioni che saranno derivate naturalmente Da quella famosa conoscenza che ti ho appena detto Oppure da un tuo intuito o una corretta interpretazione di quanto ho mostrato Naturalmente se si possiede il file o il disco di installazione Non dovrai percorrere la procedura di installazione hardware legacy Ma quella standard che già conosci La procedura invece di installazione di hardware legacy È un pochino più ostica Proprio perché ti presenta situazioni che non conosci Ecco allora perché dovrai far affidamento al tuo intuito Le tue capacità di conoscenza o corretta interpretazione Ecco perché dovrai rimetterti in gioco Nulla di grave se non sei in grado Tanto gravi danni non puoi crearli E anche perché ormai ben conosci delle strategie di sperimentazione Come la virtualizzazione Ma come utilizzi questa sezione? Una volta che hai avuto accesso a tale sezione Individua la periferica da cui devi ottenere informazioni E clicca sopra col pulsante destro del mouse sulla stessa Selezionando dal menu che si presenta una delle seguenti opzioni Potrai aggiornare il software del driver Se ti necessita naturalmente questa opzione Potrai disattivare la periferica Potrai disinstallare la periferica O rilevare se sono state eseguite modifiche hardware Infine potrai anche verificare alcune proprietà della stessa La prima opzione avvia una procedura Che naturalmente aggiornerà i driver del dispositivo E potrai scegliere o di cercare automaticamente i driver aggiornati Se il sistema operativo è in grado di rilevarli all'interno del computer Oppure indirizzare tu la ricerca del driver Su una periferica del tuo computer Quale hard disk, pendrive oppure supporto ottico La seconda opzione disattiverà la periferica Rendendola utilizzabile finché non la riattivi Quindi è come se la mettessi in stand-by In questo modo i driver del dispositivo Non verrà caricato durante l'avvio del sistema operativo L'opzione invece disinstalla Rimuove completamente i driver della periferica E naturalmente quando spegnerai il computer dovrai rimuovere la periferica dal computer stesso Perché altrimenti quando riavverai il sistema operativo La periferica potrebbe essere di nuovo riconosciuta E iniziare nuovamente la procedura di installazione dei driver L'opzione invece rileva modifiche hardware Verifica se sono avvenute modifiche all'hardware E magari non ti sono state notificate Questo naturalmente porterà ad avviare la procedura classica di installazione dei driver Se la periferica è stata riconosciuta L'opzione infine proprietà aprirà una nuova sezione A questa sezione si può accedere anche cliccando rapidamente due volte Con il pulsante sinistro del mouse sul nome della periferica dalla lista dei dispositivi Questa schermata rappresenta sottosezioni variabili In base al sistema operativo e in base alla periferica Ma di norma potrai visionare La sottosezione generale Driver Dettagli e risorse La sottosezione generale ti permetterà di evidenziare immediatamente Lo stato del dispositivo Se funziona correttamente Tramite invece la sottosezione driver Potrai visionare le specifiche dei driver Il fornitore, la data di rilascio del driver La versione e la firma digitale Inoltre avrai altri pulsanti che ti permetteranno di visionare appunto i dettagli del driver Aggiornarli Oppure disattivare il dispositivo O disinstallare i driver della periferica La sottosezione dettagli Come ben potrai capire Ti fornisce informazioni relative ai driver Da cui potrai attingere dati preziosi Per questo ti rimando Alla serie di lezioni dalla 93 alla 95 Che trattano appunto i driver E soprattutto ai video tutorial 94 e 95 Dove ho in parte spiegato alcune di queste proprietà L'ultima sezione indica le risorse che impiega la specifica periferica Ma la tralascerei in quanto specifica dati poco importanti al nostro livello del percorso Gli altri pulsanti che noti nella sezione specificamente sotto la barra dei menu Sono in parte la replica di quanto esposto in precedenza E che potrai utilizzare come alternativa alle interazioni spiegate fin qui Eccoci all'interno del pannello di controllo E andiamo ad individuare il pulsante gestioni dispositivi Quindi cliccaci sopra per accedere alla sezione relativa alla gestione dei dispositivi Subito andiamo a vedere cosa ci offre il menu in alto Il pulsante file ci dà l'opzione uscita dalla sezione gestione dispositivi E il pulsante opzioni ci indica che ogni azione di modifica viene salvata all'interno di un profilo Questo profilo occupa naturalmente uno spazio che in questo caso essendo un valore molto piccolo Può anche disinteressarti Comunque se dovesse raggiungere valori improponibili Sarà sufficiente eliminare questi file cliccando su questo pulsante e confermando naturalmente Il successivo pulsante del menu è azione Naturalmente non trovi nulla fin tanto che non selezioni una sezione In questo caso potremmo avere la necessità di cliccare sul pulsante rileva modifiche hardware Per visionare in maniera automatica se sono sopraggiunte delle modifiche dell'hardware Nel qual caso il sistema operativo reagirà tentando di installare i driver In questo caso non è accaduto nulla in quanto non ci sono stati aggiornamenti per quel che riguarda i dispositivi hardware L'altro pulsante è aggiungi hardware legacy Cliccandoci sopra potresti avviare questa procedura Nel caso in cui tu abbia collegato una periferica non plug and play Ossia quelli che in pratica permettono al sistema operativo di installare automaticamente i propri driver Ma una periferica che va configurata Questa procedura può risultare abbastanza difficile se vogliamo Ma ricorda una cosa fondamentale Se possiedi o il cd di installazione di driver o il file di installazione Naturalmente puoi abortire questa procedura Questa procedura di installazione guidata la devi eseguire Soltanto con una certa condizione In quanto dovrai andare a individuare da una lista Il dispositivo che hai installato e che il sistema operativo non ha riconosciuto Puoi tentare la via di installazione automatica dei driver Qualora lui trovasse i driver relativi al dispositivo che non è stato dapprima riconosciuto In questo caso non avendolo trovato Inizierà la ricerca da parte tua dei dispositivi Che in pratica poi ritrovi cliccando in realtà su questo pulsante Che ti alletterà di installare l'hardware selezionato manualmente da un elenco Quindi tu dovrai sapere che tipo di hardware avrai collegato E portando a termine questa procedura Ripeto con una certa cognizione Con un certo intuito o la conoscenza che tu puoi aver acquisito Potrai in qualche modo forzare l'acquisizione del dispositivo Se non è stato riconosciuto in maniera automatica Il pulsante accanto ad azione potrai trovare delle possibili opzioni Che ti permetteranno di variare la visualizzazione dei dispositivi selezionati Per quel che mi riguarda io lascio sempre attiva questa opzione In quanto ormai la chiave di lettura l'ho acquisita al punto tale che riesco ad individuare Con una certa facilità eventuali periferie Il pulsante che può tornarti utile in alcuni casi è Mostra dispositivi nascosti Nel qual caso verranno evidenziati in maniera meno marcata I dispositivi che attualmente sono nascosti in quanto magari non utilizzati Il tipico esempio potrebbe essere quello di una videocamera o una fotocamera Di cui hai installato precedentemente i driver Ma nel momento in cui la scolleghi dal pc Naturalmente non è mostrata se non con questa opzione Ossia la possibilità di visualizzare i dispositivi nascosti Il pulsante personalizza non farà altro che aggiungere o eliminare Alcune sezioni da questa schermata di visualizzazione Ma diciamo che possiamo andare avanti tranquillamente nella descrizione di questa sezione Come vai ad utilizzare questa sezione? Naturalmente se si presenta il caso tipico come mostrato in questo video Non hai alcun problema di alcun dispositivo In quanto cliccando su qualsiasi dispositivo Non noterai alcun segno di ponteggiatura E potrai essere relativamente certo che tutto funziona correttamente La certezza naturalmente ce l'hai Nel momento in cui vai a visionare con il pulsante adesso le proprietà Dalla prima sezione Noti subito che il dispositivo funziona correttamente Nella sezione driver hai l'opportunità di vedere alcune caratteristiche del driver Oppure andare ad individuare i dettagli dello stesso dove sono anche posizionati Oppure andare ad aggiornare i driver Avvierai una procedura che può essere automatizzata totalmente Nel caso in cui il sistema operativo riesca ad individuare Un aggiornamento dei driver disponibili Oppure se tu lo avessi disponibile tramite qualche supporto Indirezzerai tale ricerca sul dispositivo che contiene i driver Per inciso ti ricordo che questa sezione è stata particolarmente Trattata già nelle lezioni e in particolar modo nei video tutorial Relativi appunto ai driver Il pulsante disinstalla naturalmente permetterà di disinstallare la periferica In questo caso come puoi vedere non sono evidenziati questi due pulsanti Che potremo eventualmente visionare su altre periferiche Ad esempio qui disattiva permetterà di disabilitare il dispositivo selezionato Quindi non ti funzionerà più questo dispositivo Fintanto che non lo riabiliterai Anche qualora tu dovessi riavviare il sistema operativo Se invece disinstalli il driver e spegnendo il computer non rimuovessi il dispositivo Al riavvio del sistema operativo lo stesso rileverà la presenza di questo dispositivo E installerà naturalmente i driver di nuovo Nella sezione dettagli potrai avere molte altre informazioni Relativo a questo hardware che ti potrà anche tornare utile Qualora qualche dispositivo installato non è stato riconosciuto Queste sono altre proprietà che potrai andare a visionare Qualora tu volessi impiegare del tuo tempo per snocciolare appieno Tutte le caratteristiche della periferica Magari non è questo il momento per individuare certe caratteristiche Con il passare del tempo man mano che le tue nozioni saranno implementate Ti potrà tornare utile o perché no avere un po' di curiosità Nell'andare a smanettare questa sezione Altri pulsanti che puoi trovare in questa zona Non sono altro che una ripetizione di ciò che è stato visionato in precedenza In queste sezioni Tengo più che altro a farti individuare il pulsante guida Che potrai trovare anche qua Che ti permetterà di aprire la guida in linea del sistema operativo Per questa specifica sezione che ti potrà aiutare Qualora tu avessi qualche dubbio nella consultazione di questa sezione del pannello di controllo Qualora tu cliccassi su questo pulsante Aggiornamento software driver Oppure cliccando con il pulsante destro Ed individuando questa stessa sezione Aggiornamento software driver Si avvierà la procedura di installazione Quindi se tu dovessi rilevare qualche problematica Oppure qualche dispositivo i cui driver non sono stati installati Potrai cliccando su questo pulsante Si avvierà la procedura automatica Che tenterà l'acquisizione dei driver All'interno del computer Qualora fossero presenti Se al termine di questa procedura Non viene evidenziato alcun driver Oppure come in questo caso Il driver installato è quello più appropriato Se il dispositivo dovesse presentare ancora qualche problema È da ricercare la causa in altri termini Altra possibilità di aggiornamento dei driver È cercare il software all'interno del computer Quindi aprirai la sezione Esplora risorse tramite il pulsante sfoglia E andrai ad indirizzare la ricerca All'interno del supporto o della cartella Dove saranno presenti i driver Che avrai scaricato per un eventuale aggiornamento Termino avvisandoti che Una volta che avrai eseguito le varie modifiche Nelle sezioni o sotto sezioni A volte può comportare la necessità Di riavviare il sistema operativo Per renderle appunto effettive A seconda pure tale richiesta O immediatamente se non ti serve Anche al successivo riavvio Per appunto l'acquisizione di tali modifiche Nella prossima lezione Continueremo questa enorme maratona Sul pannello di controllo Ora come sempre Un forte saluto Ciao a presto Da Carlo e dalla prossima Ciao a presto Ciao a presto Grazie.